Accoglienza a profughi ucraini in arrivo, solidarietà per fornire aiuti. Si sta muovendo su queste due direttrici la regione Marche di fronte al conflitto bellico in Ucraina, giunto ad una settimana di invasione russa. Appena ieri la prefettura di Pesaro Urbino ha parecchiato la disponibilità di 80 alloggi e altrettanto stanno facendo le altre province ragionando anche sui covid hotel svuotati dalla pandemia. Siamo però ancora in una fase preventiva e preparatoria perché come ricordato da Stefano Aguzzi l'allerta profughi non è ancora tangibile in regione. Punto uno non ci sono profughi in arrivo verso la regione Marche ad oggi. Chi sta rientrando in Italia sono circa 2000 persone attraverso il Veneto e attraverso il Friolo Venezia Giulia lo fa con mezzi propri sapendo già dove dover arrivare cioè magari avranno già qui parenti, famiglie, persone che conoscono e vengono già di loro iniziativa. Lo scrupolo che in quelle realtà hanno è di verificare se sono no vaccinati. Questo è uno scrupolo che ovviamente occorre avere. Per noi quel tipo di problema non c'è perché non c'è un accesso diretto alle Marche in questo momento. Se mai nelle Marche dovessero arrivare tramite corridoi umanitari o altri tipi di iniziative profughi noi ovviamente al pari di tutta l'altra regione faremo quanto è dovuto per poter alleviare le sofferenze di queste persone ed accoglierle al meglio. Anche perché non sarebbero eventualmente persone che vogliono rimanere in Italia. Sarebbero persone che finito il periodo speriamo immediatamente e speriamo il più presto vogliono poi rientrare nelle loro zone, nelle loro famiglie, nelle loro luoghi d'origine. Conseguentemente noi siamo predisposti all'accoglienza e pronti qualora ci siano iniziative anche attraverso l'utilizzo potenziale, non è detto che sarà così, di un Covid hotel che noi oggi abbiamo a disposizione a Porto Sant'Elpidio. È contrattalizzato fino a fine marzo quindi ancora è diciamo a nostra disposizione potrebbe essere anche per le settimane successive però ripeto ad oggi non c'è questo tipo di richiesta magari forse non ci sarà neanche. Per quanto riguarda gli aiuti si moltiplicano le iniziative. A Pesero la Caritas raccoglie fondi così come la Onlus Gulliver sta coordinando un'analoga raccolta all'interno del liceo Mamiani. Il comune di Pesero ha attivato il numero di SOS per l'Ucraina in coordinamento con la protezione civile che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i materiali richiesti e gli orari in cui consegnarli. Poi ci sono tante meritevoli iniziative autonome come quella che vi abbiamo raccontato giorni fa della raccolta di indumenti e coperte al mercato di Pesero. Ma per portare materiali dentro i confini ucraini Aguzzi puntualizza lo stato della situazione. Oggi non c'è per quel che riguarda le Marche ma è un po' in tutta Italia una richiesta di questo genere. A meno che queste associazioni o anche questi privati non abbiano un rapporto diretto, può succedere a volte con un'associazione di quei territori o con famiglie di quei territori dove loro sanno già dove poter inviare questi materiali, altrimenti spesso che succede che raccolgono meritariamente una grande sensibilità. Poi chiamano i sindaci dicendo noi abbiamo raccolto queste cose, dove le possiamo inviare? I sindaci chiamano la protezione civile regionale, la protezione civile regionale dice mettetelo in un magazzino perché in questo momento non c'è un canale diciamo così di invio di alcun materiale verso quelle zone. Magari ci sarà domani ma ad oggi ancora è così. L'unica cosa che abbiamo fatto è che abbiamo allertato le cinque ASUR regionali per verificare se ci sono una serie di medicinali diciamo disponibili perché se mai arriverasse e probabilmente arriverà una qualche richiesta di quel genere dovremmo essere pronti eventualmente a fornirli. Ma per altri tipi di attività ad oggi non c'è nessuna richiesta né delle prefetture né dei dipartimenti nazionali né del ministero degli interni e se continuerà così vuol dire che non ce ne sarà bisogno anche se qualche dubbio sinceramente lo abbiamo.